salve a tutti fratelli e sorelle e benvenuti in questo nuovo video appuntamento di video pensieri e come dio vi benedica essere usato gesù cristo avete alcune diciamo nostri fratelli e sorelle ci hanno detto praticamente di parlare di questa cosa della mafia di san gallo questa è la prima parte una prima puntata diciamo come abbiamo scritto uno pt significa prima puntata prima parte diciamo e andiamo a vedere in modo particolare come avete visto anche dalla miniatura e della locandina il cardinale ovviamente che è morto da poco che si chiama il cardinale dannells ed era un cardinale ultra progressista andremo a leggere alcuni articoli che abbiamo trovato ovviamente per fare breccia su questa cosa e più o meno andare a capire che cosa dice andiamo a prendere il l'articolo del messaggero muore il cardinale della mafia di san gallo l'ultra progressista dannells 14 marzo 2019 e dice questo si è spento il cardinale belga goffner dannells punto di riferimento della corrente più progressista della chiesa in europa e deani indicato come uno dei maggior supporto dell'innovazione del pontificato di papa francesco quindi come vedete è un già un diciamo un leader diciamo progressista un leader che che sta dalla parte del papa attuale fratelli e sorelle quindi effettivamente quindi vediamo che è una una diciamo si trova nella parte non più tradizionalista ma più ultra progressista e andiamo avanti con l'articolo secondo diversi osservatori l'elezione di papa bergoglio nel 2013 sarebbe stata favorita e preparata da una serie di riunioni segrete che cardinali e vescovi organizzati dal defunto carlo maria martine che io ci metto tra parentesi era un massone cari fratelli e sorelle tenono negli anni precedenti a san gallo in svizzera dagli inizi degli anni del 2000 quindi quando il pontificato di giovanni paolo secondo stava per finire quindi questi in modo particolare si erano riuniti proprio per far sì che all'epoca con il pontificato di giovanni paolo secondo che è finito nel 2005 questi si erano messi d'accordo sembrerebbe da quello che dicono per poter fare un papa come dicono loro fondamentalmente però andiamo avanti e quanto hanno sostenuti anche jürgen matte penning e karim schalter autori di una biografia sul cardinal daniels che a suo tempo aveva sollovato un vespaio di critiche perché aveva definito le riunioni di san gallo a san gallo che si trova in svizzera ovviamente dei raduni di un club di stampo mafioso una lettura dei fatti dice qui l'articolo probabilmente esagerata anche se dal effettivamente non ha mai nascosto di avere fatto parte di questo cenacolo progressista lui stesso in un video registrato durante la presentazione della sua biografia a bruxella mise di aver preso parte a tale riunione svizzera all'interno delle quali si rifletteva sulle necessità di una drastica riforma ecclesiale più sinodale e meno gestata sui dogmi quindi se voi pensate cari fratelli e sorelle qui è un po' una sorta di gruppo bildenberg fratelli e sorelle nel senso che un gruppo più che mafia io la definirei gruppo massonico ma chiamiamola in questa maniera ma diciamo viene considerata mafia di san gallo chiamiamola come va chiamata fratelli e sorelle però ripeto si riuniscono questi per dire una cosa demoniaca fratelli e sorelle come dicono qui una drastica riforma ecclesiale più sinodale e meno ingestata sui dogmi un po' quello che stanno per fare per la santa per la santa messa quindi togliere quello che non serve fratelli e sorelle per dare adito a tutt'altro quindi e dice ancora oltre a danels e martini che all'epoca era ancora viva il cardinal martini del gruppo secondo il libro facevano parte anche il vescovo olandese adrian van liu i cardinali tedeschi walter casper stranamente questo famoso cardinale walter casper è uno dei famosi cardinale iper ultra super progressista che parla degli omosessuali che devono avere più spazio nella chiesa nel senso che possono prendere la santa comunione i divorziati risposati possono prendere la santa comunione insomma diciamo sono molto vicini diciamo a quello che dice stranamente la massoneria fratello e sorelle e andiamo avanti e carl eman il cardinale italiano achille silvestrini la morte di danels è stata annunciata dalla stata stampa vaticana che ha diffuso una sua biografia dice laureato allo covio alla gregoriana insegnato teologia ed è stato ordinato militare e poi arcivesco ma malinis in belgio ha partecipato al conclave del 2005 che letto papa benedetto xvi e al conclave di marzo 2013 che letto papa francesco danels era stato inviato da francesco al sinodo sulla famiglia anche se la figura la sua figura in belgio è già sotto pressione per una brutta vicenda sulla pedofilia visto che cercò di dissuadere una vittima di abusi sessuali dal denunciare l'autore un vescovo di nome roger vangelove nonché zio della vittima dalle registrazioni pubblicate nel 2010 dai giornali belgi danels chiedeva effettivamente alla vittima di soprassedere di aspettare a denunziare le volendenze viste che lo zio sarebbe andato in pensione nell'anno successivo lui ha infangato la mia vita da quando avevo cinque anni e quando ne avevo diciotto perché dice da quando avevo cinque anni a quando ne avevo diciotto perché le dispiace per lui e non per me chiedeva al cardinale chiedeva al cardinale la vittima il vescovo diede poi le sue dimissioni ritorandosi un monastero qualche mese più tardi la notizia su ordine magistratura belga perseguì la sede del vescovato portando via diverso materiale all'epoca il vaticano criticò molto la perquisizione tanto che allora il segretario di stato targisio bertone disse che erano metodi degni di regimi comunisti questo è quello che dice ovviamente il messaggero quello che dice invece il giornale dice questo goffre daniel si è deceduto nella mattina di oggi quindi si parla di più o meno il 14 di marzo se non erro del 2019 credo di pochi poco tempo fa quindi 14 marzo 2019 e di cercare di lasciare la sua vita all'età di te all'età di 85 anni e qui dice aveva già resegnato le proprie dimissioni dagli incarichi ricoperti nelle mani del pontefice argentino quando alla fine del primo decennio del due anni 2000 aveva raggiunto la soglia limite di 75 anni che salvo deroga pontefice rappresenta la pensi una soglia di pensionamento per gli ecclesiasti della chiesa cattolica ma di daniel si era parlato anche non so non soprattutto in funzione del conclave ma che eletto mari e giovane mario bergoglia soglie di pietro quello svolto si nel 2013 poco dopo la rinuncia di benedetto sedicenze ma di daniel si era parlato anche se non soprattutto in funzione del conclave che eletto mario bergoglio al soglio di pietro di pietro quello svoltosi nel 2013 poco prima della rinuncia di benedetto sedicesimo papa francesco come si apprende da vatican news ha nell'immediato inoltrato un messaggio di condoglianze denso di significato avendo appreso con emozione della morte il cardinal goffri e de danners arcivesco emerio di malines malines e bruxelles ha scritto l'ex arcivesco di buenos aires poi con le più vive condoglianze a lei la sua famiglia e vescovi del belgio al clero delle persone consacrate tutti fedeli colpiti da questa perdita bergoglio ha definito un cardinale il cardinale uno zelante pastore che si è distinto per servire con devozione alla chiesa non solo nella sua diocesi ma pure attraverso la guida della conferenza episcopale belga e quanto messi in campo dalla curia romana ma in relazione a quali affermazioni il nome di daniel si era abbassato alle croneche anni fa il cardinale dopo il conclave che ha letto joseph razzinger aveva dichiarato quanto segue questo conclave si ci dice che la chiesa non è ancora pronta un papa latino americano cioè lui disse dopo l'elezione di papa benedetto che ancora il conclave non è non è pronto quindi la chiesa non è pronto per un papa latino americano stranamente come fai a dire all'epoca che c'è un papa latino americano poteva essere qualsiasi altro pontevici cari fratelli e sorelle siamo onesti andiamo a vedere i dati infatti ecco perché vi porto articoli di giornale perché sono dati fondanti fratelli e sorelli inutile fare elucubrazione andiamo sul fatti quindi quindi come faceva lui a sapere che si sarebbe che affermazione è questa fratelli e sorelle se voi ci pensate dice bene ascoltate bene dice questo conclave ci dice che la chiesa non è ancora pronta per un papa ad un papa latino americano diciamo che è una cosa del genere in questo se uno ci pensa non ha non ha senso fratelli e sorelle effettivamente una frase che in questo in quel contesto quando fu eletto papa benedetto non aveva alcun contesto che che ci azzecca come direbbe il famoso onorevole ex onorevole di pietro non ci azzecca nulla però questo lascia qualche dubbio fratelli e sorelle perché dopo dice lo si apprende ancora sul sito di lime di limes qualcuno all'epoca interpretato questa dichiarazione in qualità di spinta progressista o modernista incarnata pure da danners che si sarebbe declinata in un tentativo di leggere bergoglio già nel 2005 e non è scuso che all'epoca non ci abbiano provato fratelli e sorelle io questo non abbiamo prove fondanti però per aver detto un'affermazione del genere significa che c'era qualcosa ovviamente non normale della situazione e poi c'è quel video intervista che si trova ancora su youtube in cui il danners ci riferisce quella che gli stessi chiama mafia di sangallo secondo molti tradizionalisti questo gruppo è composto da altri prelati per lo più di cardinali impegnati nella legislazione della chiesa cattolica nel decentramento del potere del vaticano il fatto che un giosevita argentino sia divenuto romano pontefice insomma deriverebbero pure dalla posizione presa in maniera concorda da questo gruppo vale la pena segnalare però come non siano in pochi a ritenere complottista questa ricostruzione questa è una prima puntata ovviamente infatti noi ci fermiamo qui fratelli e sorelli per questa puntata poi la prossima puntata continueremo comunque intanto abbiamo visto che cosa che cosa dice fratelli e sorelle nella prossima puntata e andremo a vedere altre notizie sempre su questo tipo di discorso però se vi fa strano intanto cercherò di recuperare questo video che non ancora non ho trovato ma cercherò di ritrovarlo per poi commentarlo e farvelo presente fratelli e sorelle è quello che va a contare su questa cosa fratelli e sorelle rimane strano che è un gruppo di altoprelati facciano una cosa del genere per definire chi può partecipare o meno alla elezione di un pontevice chi sarà il nuovo pontefice lo devono decidere un gruppo ristretto assolutamente no lo spirito santo che decide il tutto cari fratelli e sorelle il vero problema cari fratelli e sorelle è che davanti a dio questo è peccato fratelli e sorelle anche perché l'elezione di un papa fatta in questa maniera ha messo in un concesso che abbia detto la verità perché ci credo uno può dire ci uno ci può credere poco io invece qualche dubbio ce l'ho fratelli e sorelle perché pensiamoci bene uno come lui ultra progressista iper modernista fratelli e sorelle che va a dire una cosa del genere che senza avrebbe dirle queste affermazioni a chi farebbe comodo fosse stato un tradizionalista fratelli e sorelle avrebbe avuto da dire e ridire fratelli e sorelle ma un ultra modernista perché lo dice proprio adesso ovviamente al sogno della sua morte si vede che si doveva pentire di qualche cosa fratelli e sorelle può essere si vede che aveva qualche arremore sulla coscienza davanti a dio questo ce la misericordia del signore e solo dio lo sa però ripeto se avessero fatto una cosa del genere ha messo in un concesso che è stato fatto una cosa del genere fra le sorelle diciamo che l'elezione in teoria non sarebbe valida da un punto di vista proprio giuridico dell'ordineamento ma ripeto è un è un diciamo come possiamo dire è un è un dato purtroppo di fatto queste sue affermazioni cioè non è che un'invenzione dei giornalisti è proprio lui che l'abbia detto di fatto in questo video che cercherò di ritrovarlo e farvelo vedere e porta proprio a questo fratelli e sorelle comunque al di là della notorietà che uno può avere o meno da parte diciamo del cardinale dell'epoca non è normale queste sue dichiarazioni prima della sua morte fratelli e sorelle quindi bisogna pregare molto per la santa chiesa io ve lo dico sempre fratelli perché perché come disse la vergine maria fatima la salette purtroppo roma sarà la sede dell'anticristo e roma perderà la fede e tanto è vero che stiamo in questi fatti fratelli e sorelle per questo come prima puntata ci fermiamo qui anche perché ce ne sarebbero altre di notizie che andremo a ricepire sapete che le video diciamo la video pensieri non è che durano molto come come cosa ma se dio vuole e questa è una puntata diciamo introduttiva a questa cosa fratelli e sorelle se questo è veramente adesso cercheremo ovviamente di trovare altre informazioni e darveli di continuo fratelli e sorelle perché non è una cosa ovviamente normale questa cosa qui intanto vi lascerò tutte le indicazioni sulle la descrizione questi due articoli del giornale del messaggero fanno vedere praticamente in realtà che direzione prende effettivamente lui il cardinale questo ha detto che questa mafia esiste fratelli e sorelle cosa che cosa avrebbero voluto fare un come diceva nell'articolo se non erro del in questo caso del del messaggero che avrebbero praticamente ecco avrebbero fatto una drastica riforma ecclesiale più sinodale e meno ingestata sui dogmi tanto è vero che la azzarli via fratelli e sorelle per avere una spinta ultra iper super progressista e modernista per togliere tutto quello che che ovviamente non serve più secondo le menti dell'uomo ma non secondo la volontà di dio che dove la dove diciamo i dogmi sono fondamentali stra fondamentali fratelli e sorella voglia che si dice non è possibile non è vero e chi va qui dice questo fratelli e sorelle insomma non va bene comunque sia fratelli e sorelle questo diciamo che è una cosa nella prossima puntata tratteremo sempre di questa cosa su su altri articoli che troveremo perché io credo che la cosa più importante avere almeno prima di dire è così o eccola almeno avere una base di quello che si dice fratelli e sorelle perché se non si parte da un presupposto almeno di conoscenza di base di quello che è accaduto questi articoli se fossero stati falsificati sarebbero stati correlati i giornalisti qui non ha correlato nessuno nessun giornale ha preso questi due che sono quelli che hanno dato più senza queste parole che il messaggero fratelli e sorelle quindi c'è da ragionarci sopra fratelli e sorelle di pregarci sopra e chiedere lume al signore l'illuminazione ovviamente al nostro signore Gesù Cristo Dio vi benedica sia lodato Gesù Cristo se volete se potete iscrivetevi al nostro canale sia fatta sempre la volontà di nostro signore Gesù Cristo preghiamo per la santa chiesa perché è fondamentale fratelli e sorelle i messaggi ne stanno arrivando altri messaggi ovviamente che arrivano dal cielo e stanno dicendo che la situazione è veramente difficile ovviamente e quindi preghiamo fratelli e sorelle preghiamo e stiamo con il nostro signore Gesù Cristo perché la situazione si sta evolvendo sempre peggio preghiamo la santa vergine maria preghiamo ovviamente nostro signore Gesù Cristo se potete se volete diffondete questi video sia fatta la volontà di Dio se volete se potete seguiteci iscrivetevi con la campanella nostro piccolo canale dedicato al Signore Dio vi benedica sia lodato Gesù Cristo e comunque poi domani vi faremo vi faremo vi daremo indicazioni sulla programmazione della giornata sapete che domani mattina ovviamente ci sarà la parola di Dio e messaggi e profezie e poi nella giornata vi indicheremo le trasmissioni quelle pomeridiane intanto Dio vi benedica sia lodato Gesù Cristo santa notte a tutti voi e a domani Ave Maria